L'atelier di Antonietta Marotta I tessuti di alta qualità, pizzi, sete e ricami fanno sì che ogni donna nel giorno del fatidico sì o per la cerimonia può indossare un abito modellato sul suo corpo esaltandone bellezza e femminilità, rendendola preziosamente unica. I prezzi? Vantaggiosissimi. Dove ci trovi? All'imatola in via San Biagio 17, telefono 0823 48 12 20. Ti aspettiamo! L'atelier di Antonietta Marotta Sì, sete e ricami fanno sì che ogni donna nel giorno del fatidico sì o per la cerimonia può indossare un abito modellato sul suo corpo esaltandone bellezza e femminilità, rendendola preziosamente unica. I prezzi? Vantaggiosissimi. Dove ci trovi? All'imatola in via San Biagio 17, telefono 0823 48 12 20. Ti aspettiamo! Sì, sete e ricami fanno sì che ogni donna è un abito. La BFT opera come primaria azienda nella Valle Telesina da diversi anni come centro copie e forniture per ufficio. Miglioriamo il vostro lavoro e riduciamo i vostri costi per copie e stampe. Pensateci! Fax 0824 816800 Gianni Teta, chiocciola Virgilio.it BTF Copyprint di Giovanni Teta, centro copie e cartoleria forniture per ufficio, piazza Luigi Sodo, Cerreto Sannita, Benevento. Telefono 0824 86 1205. La BFT opera come primaria azienda nella Valle Telesina da diversi anni come centro copie e forniture per ufficio. Miglioriamo il vostro lavoro e riduciamo i vostri costi per copie e stampe. Pensateci! Fax 0824 816800 Gianni Teta, chiocciola Virgilio.it Trasforma i tuoi momenti più belli con una voce giovane e alietante, vera, per matrimoni, cresime, comunioni, battesimo, compleanni, concerti ed altre cerimonie. L'arte in musica è quella di Pasquale Di Meola. Per contatti, telefono e fax 0824 86 1754 328 32 76 357. Trasforma i tuoi momenti più belli con una voce giovane e alietante, vera, per matrimoni, cresime, comunioni, battesimo, compleanni, concerti ed altre cerimonie. L'arte in musica è quella di Pasquale Di Meola. Per contatti, telefono e fax 0824 86 1754 328 32 76 357. Scopri anche tu il posto ideale per i tuoi acquisti. Troverai tutti i prodotti italiani certificati e garantiti. Alta gastronomia e inoltre potrai degustare anche degli ottimi vini come il Brunello di Montalcino, il Rosso di Montalcino, il Greco di Tufo e ancora Pasta di Gragnano, Porchetta di Ariccia, mozzarella di Bufala Dopp, parmigiano di prima scelta Grana Padano, pasta fresca Fiorucci, confezioni regali in tutti i periodi e tanto tanto altro. Enogastronomia Le Bontà di Romanella Vincenza, via San Rocco numero 33, l'Immatola Benevento. Scopri anche tu il posto ideale per i tuoi acquisti. Troverai tutti i prodotti italiani certificati e garantiti. Alta gastronomia e inoltre potrai degustare anche degli ottimi vini come il Brunello di Montalcino, il Rosso di Montalcino, il Greco di Tufo e ancora Pasta di Gragnano, Porchetta di Ariccia, mozzarella di Bufala Dopp, parmigiano di prima scelta Grana Padano, pasta fresca Fiorucci, confezioni regali in tutti i periodi e tanto tanto altro. Enogastronomia Le Bontà di Romanella Vincenza, via San Rocco numero 33, l'Immatola Benevento. A Benevento e a Sant'Agata dei Goti, Polleria Macelleria Fratelli Meccariello. Carni di ogni tipo, tutte di altissima qualità e provenienza certificata a prezzi senza confronto. Tante le specialità di sossate, già farcite e poi hamburger, crocchette di pollo ripiene, cacciagione, persino carne di cavallo e distruzzo. Polleria Macelleria Fratelli Meccariello. In due punti vendita, a Sant'Agata dei Goti, in via Sant'Isi Parco Flora, 347 32 20 947. A Benevento, in corso Dante 12, 339 78 85 249. Da che mondo è mondo, l'appetito vi è mangiando. A Benevento e a Sant'Agata dei Goti, Polleria Macelleria Fratelli Meccariello. Carni di ogni tipo, tutte di altissima qualità e provenienza certificata a prezzi senza confronto. Tante le specialità di sossate, già farcite e poi hamburger, crocchette di pollo ripiene, cacciagione, persino carne di cavallo e distruzzo. Polleria Macelleria Fratelli Meccariello. In due punti vendita, a Sant'Agata dei Goti, in via Sant'Isi Parco Flora, 347 32 20 947. A Benevento, in corso Dante 12, 339 78 85 249. Da che mondo è mondo, l'appetito vi è mangiando. La pasticceria Punto Dolce offre servizi per tutti i tipi di cerimonie. Punto Dolce è la nuova gestione della pasticceria napoletana di Riccio Elettra, che offre ai suoi clienti la migliore pasticceria napoletana. Dopo tanti anni di esperienza, servizi per tutti i tipi di cerimonie, offre inoltre un buonissimo gelato di produzione propria. Siamo a Sant'Agata dei Goti, in via Sant'Antonio Abate, numero 39. Per prenotazioni telefonare allo 0823 717474. Punto Dolce, il punto giusto per il tuo palato. La pasticceria Punto Dolce offre servizi per tutti i tipi di cerimonie. Punto Dolce è la nuova gestione della pasticceria napoletana di Riccio Elettra, che offre ai suoi clienti la migliore pasticceria napoletana. Dopo tanti anni di esperienza, servizi per tutti i tipi di cerimonie, offre inoltre un buonissimo gelato di produzione propria. Siamo a Sant'Agata dei Goti, in via Sant'Antonio Abate, numero 39. Per prenotazioni telefonare allo 0823 717474. Punto Dolce, il punto giusto per il tuo palato. Vuoi assaggiare una buona pizza e dei cibi prelibati? Muoviti! Vieni alla pizzeria Trattoria Romantica, via Nicotera, in Cerreto Sanita Benevento, e l'atmosfera sarà quella ideale. Assaporare una pizza romantica è segno d'amore e di buon gusto. Ah, dimenticavo, puoi ordinare la tua pizza preferita anche da casa, telefonando al numero 333 2387 587. Vieni alla pizzeria Trattoria Romantica, via Nicotera, in Cerreto Sanita Benevento, e l'atmosfera sarà quella ideale. Assaporare una pizza romantica è segno d'amore e di buon gusto. Ah, dimenticavo, puoi ordinare la tua pizza preferita anche da casa, telefonando al numero 333 2387. numero 333 2387 587.